si torna in campo tre secondi solo per gestire quest'azione per Sansevero grande difesa per lo storico Chiarello prova ad entrare lui pallone perso tre minuti e otto secondi a termine del match saranno tre minuti lunghissimi Amoroso Ruggero prova a spaccare la difesa del Sansevero Pilotti finta il tiro poi si avventura nella difesa il fallo fischiato a Fossati rimessa per Ostuni 2.51 da giocare tre punti di vantaggio per Ostuni Piantonello Ruggero alla rimessa Basaniso pallone che scottano Ruggero si alza lui da tre punti la tripla di Antonello Ruggero quanto pesa questa tripla adesso però Ostuni dovrà difendere 2.28 da giocare Possati prova ad andare lui il fallo fischiato a Basanisi che coraggio Antonello Ruggero lì ci vuole veramente il coraggio di un gran campione che sfida la tensione sfida l'emozione di quei momenti 2.22 da giocare 68 a 62 Ruggero anzi Rizzitiello ci prova lui sbagliato rimbalzo però per Sansevero ancora Fossati Ruggero prova a cercare spazio per il tiro e fallo in attacco fischiato a Paolo Chiarello e quinto pallo per lui quinto pallo per Chiarello e si fa sentire il pubblico di casa ora è chiaro che Costuni deve sapere gestire con calma questo finale facile a dirsi Ruggero ancora lui 2 minuti da giocare Amoroso vinta il tiro poi lascia Morena Basanisi dall'altra parte c'è Pilotti si alza lui la tripla 71 a 62 Giannini da sotto mette dentro 1.37 da giocare Mausuni ha davvero dei campioni un asso nella manica da sfruttare sempre Morena poi Ruggero ancora Morena prova lui alla distanza viva Morena adas Lux closure 00.6 4 Fame testi Spano Tar fallen 12 18 20 12 11 20 21 21 Grazie a tutti.